Un altro esempio della chirurgia refrativa terapeutica lo possiamo esprimere con le cicatrici corneali. Capita spessissimo che pazienti con cicatrici corneali di varia natura si rivolgano alla nostra attenzione. Questo perché sono state vittime di traumi, corpi strani penetrati all'interno dell'occhio oppure sia di congiuntiviti o keratiti, infezioni di varia natura sulla superficie dell'occhio che hanno ingenerato quindi una mancata trasparenza della superficie corneale dell'occhio. Ricordiamo che la corna è questa membra nella trasparente nella porzione più anteriore dell'occhio. Ebbene anche in questo caso, oggigiorno, è possibile in molti casi ottenere risultati direi fantastici. Questi pazienti che hanno occhi ipo o non vedenti possono tornare ad avere una visione anche eccellente. Ovviamente in particolar modo in questi casi è indicata una valutazione preoperatoria perché sono casi molto delicati e specifici ma la tecnologia a nostra disposizione, sia laser, sia farmaceutica, sia diagnostica, ci consente di andare a rimuovere spesso queste cicatrici che rovinano la superficie dell'occhio per un ripristino visivo totale o parziale, comunque sia con un grosso miglioramento della qualità visiva dei pazienti.